non so se potevamo fare qualcosa in più ma penso che le ragazze abbiano messo tutto quindi forse hanno dato tutto ecco quindi forse qualcosa in più evidentemente non si poteva fare sicuramente essere stata in partita è una buona cosa per le prossime partite che sono quelle importanti ecco quindi siamo tranquilli ovviamente fare punti con la juve sarebbe stata una grande cosa per quello che è il nostro obiettivo che è la salvezza ma va bene andiamo avanti se veniamo al percorso che abbiamo fatto da quando siamo arrivati la squadra al completo non ce l'abbiamo mai avuta e quindi io penso che la rosa a disposizione si sta facendo trovare pronta stiamo ruotando abbiamo infortuni ma abbiamo chi recupera chi rientra e chi viene chiamato in causa si sta facendo trovare pronto non sta facendo diciamo rimpiangere gli assenti quindi andiamo avanti così